Sarà il mille prorogo il provvedimento che permetterà di avere a cittadini e imprese del cratere una visione più chiara sulla restituzione delle tasse. La legge per ora indica il primo gennaio come data dalla quale gli aquilani dovranno iniziare a restituire le imposte non versate dal 6 aprile 2009 ad oggi. Ma dal Governo nazionale, come dal commissario alla ricostruzione Gianni Chiodi, sono arrivati messaggi confortanti sulla restituzione, ma anche e soprattutto sulla possibile decurtazione delle somme da restituire. Si sta lavorando, ribadisce Chiodi, sull'equiparazione fiscale dei terremotati aquilani a quelli di Umbria e Marche, un impegno che, come ricorda il Governatore, è stato ribadito anche dal Presidente Berlusconi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. Mi rendo conto che in questo momento ci sono tanti problemi, il Paese sta vivendo una legge di stabilità, una crisi di governo di fatto potenziale, adesso c'è la fiducia alle Camere. Direi che queste problematiche sono importanti, però noi prima della scadenza ci attendiamo un provvedimento positivo, in questo senso perché è stata la volontà, non solo nostra, ma anche la volontà dimostrata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Sul tema tasse più in generale, sulla ripresa economica del cratere, il Comitato per le attività produttive, presieduto dalla Camera di Commercio dell'Aquila, fa appello a tutti i deputati abruzzesi perché si impegnino a promuovere direttamente a Roma lo slittamento e ancor più la decurtazione delle tasse da restituire. Una lettera anche al Ministro Tremonti. Oggi, con i tempi così stretti, la cosa più importante è quella che noi in effetti non volevamo, perché volevamo risolvere i problemi prima, ma oggi dobbiamo dire che oggi l'unica soluzione immediata è quello che è lo spostamento dei termini. Per avere lo spostamento dei termini nelle mille proroghe che sarà fatto entro la fine dell'anno, ci serve una forza coesa dei parlamentari, del Sindaco dell'Aquila, del Commissario.